Naviganti del lobby, bentornati sul canale! Allora oggi è più che un video su qualcosa di particolare, un super annuncio. Allora il 28 agosto avremo un torneo a Venezia, voi sapete che Venezia è direi la città più unica al mondo, non diciamo la più bella perché magari ce ne sono soggettivamente altre, ma Venezia è sicuramente l'unica città sull'acqua di un certo periodo storico, eccetera eccetera. L'unico negozio in provincia di Venezia che fa tornei di Warhammer a questi livelli è Arcadia e noi il 28 agosto ci troviamo con Samuele d'Arcadia e ci ha procurato questo fantastico kit devasto che vi faccio vedere subito dopo la sigla. Ciao! 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 Allora ragazzi che cos'è questo kit? Questo è il Warhammer 40.000 Organized Playpack italiano vuol dire che all'interno c'è tutto quello che serve per gestire un torneo ufficiale in un negozio trade piuttosto che in un negozio ufficiale e quindi lo apro e vi faccio vedere Allora questa parte qua è uno spessore praticamente all'interno troviamo tutta una serie di scusate ho i guanti perché sto ancora facendo lavori con la macchina in 3D praticamente ci sono degli obiettivi secondari che permettono di personalizzare il torneo come non lo avete mai potuto farlo con i vostri amici o in negozio durante le partite normali tutta una serie di carte che i giocatori partecipanti avranno ovviamente il massimo dei giocatori è quello delle carte ma insomma dovremmo starci dentro e questo fa sì che il torneo diventi molto aperto perché anche se voi avete preparato una lista ad hoc per qualcuno o qualcosa quindi un'altra armata piuttosto che qualcuno che conoscete che sapete già che lista fa questi rendono ovviamente il gioco molto più imprevedibile perché non sapete cosa può accadere vi faccio un esempio eppure l'enico secondario di fazione usa questa carta per indicare la scelta di un obiettivo secondario relativa a una fazione specifica scegli il segreto e indica qual'obiettivo secondario di fazione hai scelto quando riveli questa carta condividi la scelta effettuata con l'avversario questo è un esempio ci sono anche altri esempi ovviamente ogni partecipante ne riceverà un pacchetto che dovrà utilizzare proprio all'interno del torneo il trofeo ve lo faccio vedere alla fine trofeo super ambito perché quando ve lo faccio vedere è veramente bello la giù ho fatto le cose in grandissimo qui avete una cartolina del torneo aiuto i guanti non mi ausiliano eccola qui cartolina del torneo che praticamente dice il pacchetto evento è scaricabile questa è una cosa del negozio ovviamente quindi lui può praticamente avere altro marketing e quindi questa è una cosa più di samuele che per noi e qui abbiamo praticamente l'attestato della stagione di guerra campione del negozio quindi il primo classificato il secondo classificato stagione di guerra armata meglio dipinta quindi c'è un premio anche per chi dipinge meglio l'armata e mi raccomando venite con le armate dipinte perché è sempre meglio giocare con un hobby fatto bene mi raccomando che non venite a nome mio dicendo e samuele ho visto il mio custom minetus francesco e poi ci avete le tutte le miniature montate grigie e dopo campionato ufficiale del negozio e quindi qui sarà scritto 28 agosto ragazzi allora oltre a questo subito nel recap vi do una promozione bestiale che è proprio fatta da arcadia da samuele in concomitanza con il canale con mio custom minetus ma prima vi faccio vedere una cosa più bella del torneo che a parte attestati questo e quell'altro ragazzi guardate il trofeo allora il primo classificato riceverà questa meraviglia in cristallo 3d guardate che roba spessissimo solido da morire e sarà il campione del negozio arcadia venezia cioè voglio dire venezia ragazzi non è come essere i campioni di caltani setta ora sono follower di caltani setta che immediatamente sta disiscrivendo dal canale dice ma fa un bagno questo mi dice che bene se meglio di caltani setta al di là di questo sto scherzando chiaramente esseri campioni del negozio di venezia non è da tutti quindi io vi aspetto per il 28 agosto ci sarò anche io qua e sicuramente se devo capire con l'altro lavoro come sono preso ma mattino pomeriggio tutto il giorno ci sarò mi raccomando venite numerosi iscrivetevi anche online tramite la pagina di arcadia facebook ovviamente potete iscrivervi via messenger oppure faremo un post e quindi potete iscrivervi non so ancora il prezzo e il costo del torneo avrà una piccola partecipazione non vi preoccupate perché poi avrete comunque anche per esempio il pacchetto delle carte da portarvi a casa e soprattutto a parte la gloria e il meraviglioso premio questa promozione bestiale che adesso vi dico subito dopo ragazzi occhio alla promozione la promozione è questa tutti i follower del canale mio custom miniatures per tutto il mese di agosto avranno la possibilità di acquistare un buono da 100 euro tramite arcadia o presso arcadia potete farlo tramite il messenger di facebook o il post che faremo apposta con questo video sotto potete dire io ne prendo uno poi contattate sam o lui vi contatterà e potete fare un bonifico per quello quello che è ok prendete 100 euro di buono e immediatamente avrete 130 euro di buon acquisto quindi con 100 euro in realtà ne avete 130 per poter acquistare quello che volete fino al 31 agosto mi raccomando non sgarrate se avete bisogno di fare hobby durante l'estate questo è il momento buono per avere 30 euro di acquisti random per poter comprare quello che volevate io spero che questa cosa sia gradita mi raccomando quando scrivete a sam diteli che avete visto l'annuncio ovviamente lo scrivete sotto l'annuncio del video vi aspetto per il torneo del 28 agosto e magari così potete anche acquistare e sfruttare il vostro buono ciao ciao